Presidente Gasparri, ospite alla Spring School 2023 del senatore De Poli, qual è il senso di questa iniziativa? Fare formazione politica, incontrare le persone, immaginare che la politica non è soltanto social network o televisione, che pure è importante, ma anche contatto fisico, approfondimento, militanza, partecipazione, perché come diceva quel noto cantante, la libertà è partecipazione. Chi pensa di fare tutto attraverso i beat o attraverso i tweet, forse vive una vita soltanto parzialmente giusta. Grazie